Qui a Sant'Anna l'hai fondata, il prossimo anno facciamo 120 anni della venuta dei nostri noni qui nel paese, ma della immigrazione facciamo 136 anni. I nostri noni che sono venuti da Italia, di cortesano, il mio nono che era mio bisnonno, che ha aborto la vita in Maria Sartori, sono partiti da Genova come strada e sono arrivati verso Campinas e sono stati lì 10 anni lavorando a Campinas. Dopo hanno fatto un po' di rapporti del Sordi e hanno comprato un pezzetto di terra nella città di Rio Claro, che è vicino qui da noi, 40 minuti.